ragazzuoli ci siamo quasi Stranger Things 5 uscirà nel 2025 ma prima di proseguire vi ricordo di seguirmi su tutti i canali social ragazzi trovate il link in descrizione per l'80% di sconto su Instangaming ragazzi mi raccomando usufruitene perché ci sono veramente tante cose e pelle sul sito di Instangaming anche sull'app signori parliamo di Stranger Things 5 perché a quanto pare qualche giorno fa è uscito un video riguardante dietro le quinte appunto della stagione 5 che a quanto pare sta a metà riprese quindi avevano detto che tutto l'anno del 2024 venivano fatte delle riprese per tutta la stagione della stagione 5 di Stranger Things 5 appunto è che ci sarebbe voluto un anno di riprese quindi ok fate tutto con calma non c'è problema a quanto pare c'è questo video appunto dietro le quinte della metà delle riprese ci sono tanti personaggi tanti cambiamenti ci sono anche nuovi personaggi oltre a Linda Hamilton che è stata aggiunta di recente quindi ci sono credo che siano personaggi secondari poi non lo so e ci sono tante cose tante chicche sul set come vengono preparate le cose tutte le cose eccetera e quindi diciamo che va bene però c'è una cosa molto particolare perché l'attore che interpreta Mr. Clark ovvero Randy Havens ha rivelato ufficialmente che Stranger Things 5 uscirà nel 2025 ora se vogliamo teorizzare sulla data d'uscita effettiva della stagione 5 potrebbe essere un easter egg ovvero verso ottobre che vuol dire verso ottobre se non mi ricordo male nella prima stagione di Stranger Things veniva annunciata una data appunto nel primo episodio la sparizione appunto di Will Byers in una certa determinata giorno di una certa determinata data ora se fanno uscire la stagione 5 in quel determinato giorno del primo episodio di Stranger Things della stagione 1 io impazzisco perché potrebbe essere un collegamento assurdo un ciclo infinito che non finisce mai e quindi ok devono rispondere talmente tante domande a questa stagione ovvero alcune cose per esempio perché nel sottosopra è stato ancora bloccato nel 1983 non si sa ancora gli episodi saranno 8 o 9 ne sa 9 più che altro perché hanno fatto tipo a turno 9 episodi speriamo che questa stagione sia bella io a quanto pare dovrò rifare un recappone di tutta la stagione credo che necessiti necessiti assolutamente e voglio rivedere tutto Stranger Things dall'1 fino al 4 di nuovo perché lo voglio rivedere e quindi niente ragazzi attenderemo questo 2025 a braccia aperte con tante uscite sia videoludiche che serie tv che film e aspetteremo a braccia aperte tutto ma prima di lasciarci vi ricordo di seguirmi su tutti i canali social trovate il link in descrizione per usufruire dell'80% di sconto su instant gaming ragazzi mi raccomando usufruitene perché ci sono tanti sconti e tante cose che potete comprare capito? detto questo ci lasciamo e ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti grazie a tutti